Sindaco, oggi sarà lanciato lo spot del Comune di Napoli per chiedere ai cittadini di versare il 5 per 1000 al Comune. Lei ci ha messo la faccia. A che cosa saranno, avete già in mente delle iniziative specifiche per le quali investire questi soldi che i cittadini vorranno donare al Comune di Napoli? Ma innanzitutto sono onorato di metterci la faccia perché facendo il Sindaco di Napoli e essendo la guida di questa amministrazione credo che sia in questo momento un bel messaggio quello di lasciare i soldi alla città. Perché noi stiamo vedendo in questi anni che i governi centrali non danno quello che alle città aspetta e che anzi si prendono molte delle risorse. Il debito pubblico del Paese non lo fanno i Comuni, ne sono vittime. Quindi il messaggio forte è quello che il napoletano oggi può lasciare alla città. Lasciandola alla città il denaro sarà destinato al miglioramento della qualità della vita urbana della nostra città. Quindi sono soldi ben, tra virgolette, spesi che avranno la finalità ovviamente giusta di cui noi ci facciamo garanti e ovviamente in condizioni di trasparenza, di oggettività e di comunicazione racconteremo di volta in volta la città. E penso una bella cosa, voglio anche dire che l'iniziativa è stata, è un'idea della consigliera Maria Caniglia del gruppo DEMA che è presidente anche della commissione consigliare per le politiche sociali. Una giovane consigliera molto amante della città che ha avuto una bellissima idea che io ho voluto fortemente sostenere.